e benvenuti in questo nuovissimo video oggi domenica 3 ottobre iniziamo questa fantastica giornata a romics ok ma prima di iniziare ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanellina mettere like tutte le cose che non fate mai vabbè iniziamo questa fantastica giornata mi raccomando ragazzi andiamo a vedere queste interviste dare un po di fastidio qualche cosplayer e andiamo a vedere allora oggi siamo con chi sei tu chi sono sei l'uomo bestia chi sei un licantropo chi sei oscar vedo vedo sti tipi qua con le armature chi sono sti tipi qua chi sono sti tipi qua maronna me chi so questi chi siete raga mi chiamo mando mi chiamo mando da di mandalorian e tu invece sei vanno dalle leggende di star wars e tu invece chiese bugio la voglia chi sei tu il tuo figlio più o meno la cesta molla ceste a ste ragazze chi sono queste chi sono tutte belle tutte da scolarette chi sono ste ragazze come ve chiamate raga benedetto e ginevra benedetto e ginevra ma che è stata fa qua raga che è stata fa mi sa che avete sbagliato tutto questo è stato seduci da scuola siete uscite ragazzi da catechismo ah ho capito ho capito chi sei della disney scar aspe mascar non era un leone sono un leone a come come che fa il leone ma no attente fa freddo però così no non so chiudere non posso chiudere no fa bene fa bene fa bene fa bene ma fa bene addominali dai è la prima volta che vieni a romix no no ormai sono di casa dai di gama c'è la residenza qua c'hai la seconda residenza senti oggi oggi è come quindi come scar e la trivo gli altri giorni il primo giorno si è venuto anche altre volte ieri ho portato sirio cadevo e portare e senti ma come ti trovano i nostri amici su instagnammati c'è da agli stegnammati che tocca c'è stai certo sono maurizio akira sia su instagram su facebook e sui social in genere in genere mi raccomando raga seguita sto tipaccio dai e ok e quindi questa giornata di romix vediamo inizia essere un po grigiume c'è un po di grigiume c'è sta che piove speriamo del no speriamo da ma vedi a chi altro dobbiamo da dobbiamo dare fastidio vediamo a chi è che dobbiamo da fastidio a io vedo da senti ma da star wars è giusto o me sbaglio certamente sì ok la prima volta che venite qua romix raga no siamo venuti anche gli anni scorsi vestiti da altri cosplayer ma non è il nostro primo anno non è il primo anno se vede già tre volte da come vi trovano i nostri amici su fettiche tocche instagnam c'è state non abbiamo modo per reperire social eccetera quindi non non siete social non c'è state a state a se fate parte della rivolta diciamo con come il primo anno che ci mettiamo così quindi ancora dobbiamo postare armeggiare ancora tanto di avere foto da postare ho capito ho vabbè raga mi potete segui ammirateli fa vede fai vedere da sopra sotto quando so bello fangere come so bello salutati i nostri amici mi raccomando raga seguito seguita sti tipi perché non ce l'hanno quindi ci vediamo la prossima intervista dagli e senti ma che personaggio è il vostro fammi sapere fammi sapere il mio si chiama mary sautome come scusi aspetta mary sautome ok e tu invece io yumeco yumeco yume ma che è questa cosa qua la collana voglio pure la collana bella sta tipa famose una partita famose una partita dai e dai e famose una partita vediamo oh te to fregata dai e dai e questa dopo continua ma partita e senti ma sui social si date su instagram metti che tocca c'è state come non proprio c'è esistiamo ma come non vi posso seguire i nostri e no raga vattacca terca me spiace me spiace mi potete seguire ammiratele pure a loro quando so bello fa vede fa vede come so bello fa vede come so bello a posto raga finito qua finito finito dopo a ste tipe che amma siamo andate a vede vediamo che che domanda a a te con madonna mia stare tina da pescatore al dio dell'inganno o non è acqua che è questa è un'illusione ottica fatte vedere fatte ammirare ma raga stata portava pioggia stata portata che chi si è è tutto finito in attenzione la sua variante sono la lochi femminile della serie tv la silvi la prima volta che venite qua a romix raga nell'anno scorso ci avete a residenza ed ecco un altro a cui abbiamo dato un po di fastidio chi sei vegeta 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 ma che c'è scritto dietro la cosa come badman che sarebbe uomo cattivo uomo cattivo uomo cattivo uomo cattivo totto totto senti ma chi sei fammi sapere sono minita di mayor accademia versione cattiva versione cattiva certo è una versione tua però esiste no non esiste purtroppo però hai battato e poi vabbè se origina originale dai senti ma i nostri amici su instagram meti che tocchi come te trovano te trovano che stai o stai come a quelle che non ci stanno come te chiami zaki cos come scusa zaki cos vabbè ho trovato scritto da queste parti qua vabbè senti ma sta retina perché sta retina si metti perché minita è un personaggio abbastanza pervertito e la sua versione femminile non può non essere pervertita altrettanto si vabbè diciamola così ma questa chi le rubate ste palle raga io c'ho paura a chiederlo chi le rubate ste palle le ho fatte io e le ho fatte tue palle vabbè vabbè e quindi mi raccomando raga seguita sta tipa mi raccomando ciao cari alla prossima ragazzi mi l'ha chiamato anche in comune lo sai ah vedi ma che è sto bastone raga questo è il mincettro ma senti una cosa ma come te trovano i nostri amici su instagram metti che toc c'è state io non c'ho nulla io io sono antico tutta lei la tutta lei ce l'ha come come te trovano i nostri amici su instagram metti che tocco che state instagram 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 come te trovano marci simo fratto basso cosplay vabbè tanto raga lo vedete scritto qua sotto vedete scritto mi raccomando raga seguite a sti tipi e mi raccomando venganno lo smanetizzo no senti ma è prima volta che vieni qua a romix no ho quasi esperienza decennale decennale addirittura si quanto pare si ti piace questa edizione questa edizione è un po' moscia pieno di transenne troppe e niente troppe transenne come si dì free più free diciamo più pro free più free vabbè come ti trovano i nostri amici su instagram metti che tocco cioè sei un po' social instagram metti un punto vicita vabbè ho trovato il sito qua sotto raga quindi non potete sbagliare mi raccomando raga seguiteci mi raccomando pp strello e batman eccolo eccolo sarebbe possibile non pubblicare il mio spessore e preferisco di no vabbè solo così è una questione di ti preoccupare io a quelli che scappano sono quelli che preferisco sinceramente namoli a becca namoli a quelli che scappano sono quelli che io preferisco più di tutti ooooh eccoli eccoli raga ma che cacchio è sta cosa ma che cos'è questo che cos'è innanzitutto un'ascia è un'ascia ooooh allora fatiamola così ooooh a posto come ti chiami? yuna yuna e tu invece? cherry cherry a te vedi a mamma mia raga fate proprio impressione fate senti tu dove vai? dove vai? tu stai a credere di scampare stai a credere senti un po' maron che unghie questa ha manicure proprio i milioni fa manicure si 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 è molto molto sobria come come? fagli a vedere fagli a vedere aaah boba te taglia ma come te chiami? chi è il tuo personaggio? si chiama lady dimitrescu di resident evil 8 ok e tu invece? sono praticamente la figlia di lady dimitrescu vabbè sale sale madre sale figlia esatto tu invece sei il papà immagini no io sono solo l'enigmista l'enigmista? faccio un enigma fagli un enigma fagli un enigma vieni tutti i spiderman qua tutti i spiderman qua vieni ooooh ecco fate la mostra di spiderman come che fa la mostra di spiderman così uuuuuh dai un'altra immagine della copertina l'abbiamo fatta perfetto perfetto senti ma chi siete innanzitutto raga? Tom Holland il tuo spiderman di Tom Holland ovviamente e tu invece? io sono Andrew Garfield lo spiderman di Andrew Garfield e tu invece chi sei? Tom Holland sempre Tom Holland solo con un altro costume ah ho capito ho capito che personaggio siete raga? Kukichi Oma di Danganronpa ok pure tu si io Shuichi come? Shuichi sempre stesso anime so capire è la prima volta che venite qua a Romics? ehm si ti piace? si ah vabbè vabbè la prima volta va bene tu invece? pure io la prima volta che vieni? vabbè bello 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 ma sui stagnamme ti che tocchi siete un po' social raga? si mi hanno detto vabbè se ti devo di proprio come te trovano? te trovano? si ma è un po' no è difficile e dillo dillo non ti preoccupa io faccio fai un spelling ehm si ah ma cosa ricorda raga? assurdo guarda la trattino basso punto xx punto yuna allora punto xx questo instagrametti che tocche si quindi punto xx punto yuna punto xx punto minchia a me peggio da in codice fiscale o più più file più difficile non potevi trovare tu invece come te trovano? spero sia più semplice si è più semplice allora cherry punto trattino basso punto cost 17 vabbè vabbè tanto raga ho trovate scritto qua sotto ho trovate scritto dove vicino vicino all'ascia ho trovate scritti i nomi di ste tipe mi raccomando raga seguite a ste tipe dai raga vedaglio a testa senti ma i nostri chi ce sta guarda come te trovano sui stagnammeti che tocche te ve trovano? eh il mio nickname è mattia.gervasi trattino basso vabbè ho trovate scritto qua sotto raga non ve potete sbagliare tu invece? il mio è red fox cosplay il mio è un po' complicato trattino basso punto lill punto trattino basso punto giupiter punto trattino basso finito? è finito è finito appunto lo trovate scritto qua sotto oh sti nickname dei stagnam è sempre così facili è peggio del codice fiscale si è vabbè ragazzi mi raccomando seguite seguite a ste seguite a ste seguite a ste ribi raga seguiteli iiii senti ma c'è state sui stagnamme siete un po' social raga? si 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 come te trovano? gsos.goss gsos con due o e faccio ghost e mi diverto tanto lo trovate scritto qua sotto dove avete scritto perché i tuoi nickname di stagnamme sono sempre molto facili si si è la particolarità tu invece come te trovano? io su instagram spider underscore runner spider underscore runner ottimo tu ce l'hai instagnamme? no bravo più tardi tra qualche annetto eh mi raccomando raga fate la mossa l'ultima mossa di spiderman wuuu e andiamo ma da fastidana troppo di gente perché come ho detto prima chi scappa sono quelli che io preferisco sono loro oh eccolo oh chi siamo? chi siete? personaggi di mayro accademia quali personaggi? tu mi dici personaggio come dire pasta e patate è indovinello è indovinello così chi è? chi sono? famo scrivetelo uno due tre chi siete? Bakugo Kirishima Bakugo ah vi siete sdoppiati vi siete ah ho capito ho capito se ma sui social c'è state siete un po' social raga ce l'abbiamo aimori cos jade cos ok raga lo trovate scritto qua sotto non vi potete sbagliare la prima volta che hai venito a romix raga? no parecchi anni tipo? 5 e 6 ehhhh 5 e 6 no poco vederà pure tu? è la mia quarta volta in realtà la quarta volta vabbè c'è sta c'è sta 2013 dal 2013 ma roba ha fatto i radici qua è facile si si l'ho aperto io l'ho aperto tu quindi diciamo che questa edizione è quella che che più vi piace qui da tanti anni che ci venite la più bella questa eeee si 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 poteva fare meglio oh ma non ci lamentiamo perché sono due anni che stiamo senza fiere quindi ci accontentiamoci va bene tutto fantastico bravissimi 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 bravi mi raccomando raga seguite a sti tipi mi raccomando sciogari facciamo gli amosta facciamo gli amosta com'è 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 chi è chi sei tu credo che credo che non si vede non si vede se vede adesso però che sia un personaggio molto conosciuto il mio un ladro gentiluomo cioè lupen terzo o come lupen lupen l'incorreggibile fammi vede fammi vede sta cosa sta ambedio o ambe bella bella se ma con questa ci vai a fare rapine eh sì è l'unica arma che non tradisce l'uomo come dice il mio compagno fedele Jigen ma come te trovano i nostri amici su instagram metti che tocca c'è stai io ci so solo su instagram mi chiamo in inglese ace nightmares scritto ace trattino basso nightmares vabbè tanto trovate scritto sempre sotto assolutamente questo nome è dato dal mio nome d'arte asso e nightmares perché gioco c'è gioco mi piace il gioco little nightmares e ho portato anche six e seven runway kid se volete vedere trovate il nome qui sotto giusto sotto trovate sempre qua sotto vabbè mi raccomando raga e seguite a sto tipaccio mi raccomando e fa belle cose ti faccio no no seguite a sto tipo a sto tipo che se stavano a fare fotografia è proprio così a scosciata a via 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 qua via qua ma che è sto coso qua che è sto e che 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 cos'è è uno squalo perché c'è uno squalo non si fa male agli animali ai pesciolini che amico ai amico tu no è bello cucciolo bello beh senti ma come te chiami ma il personaggio me tutto 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 devi dire tutto ma come te chiami vanessa aga jinx e ma il tuo personaggio jinx jinx o tu invece giorgia il mio personaggio è mirko milko io sono isabella come colai mirko mi amiru con o mirko che dico mirko tu sei davvero alle giapponesi dicevo mi ricco mi ricco vabbè tu invece io sono isabella sono un original cioè non esisto tu non esisti e unico e se come al molise che non esiste sono apparsa domani scompaio e un entità fantasma ma quindi i vostri i vostri sui stagnam sono i nomi di pietro giorgia tu isabella marini io non mi ricordo aspetta raga non si ricorda il suo nick il suo coso su youtube in stagna amato e chi sei e chi sei di allo fai allo fai una cosa dimmene qua dimmi quello che usi di più dimmi quello che usi di più si bilve in cosplay o tanto raga ho trovato è scritto qua sotto trovate scritto tutti i nomi di estetip mi raccomando raga io mi porto o squaletto ciao ragazzi oh eccole eccole senti ma come ti chiami valentina ilaria ilaria che personaggio allora io porto asuka da evangelion e tu marita di evangelion ma su istagnam c'è state raga istagnam istagnam niam valentina niam nanami cosplay niam nanami cosper tu invece no aspetta l'ho cambiato e costumes scusate vabbè tanto trovate scritto qua sotto raga non vi potete sbagliare tu invece nare sarie così sempre nare sarie mi raccomando raga seguite a stiti perché queste sono proprio le modelle dai 10 ciao 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 ciao